Grazie a tutti. 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 E poi mi ricordo che è come se qualcuno avevi portato una busta con tante grucce, no? No? E io mi sono comportata male, no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lui subito. Tostinco, per qualche minuto per conti davanti al signor Mino. Tostinco, mi chiedo. In casa tua? Eh, tu perché non me l'hai detto? Scusa. Perché non ho detto anche il mio compagno. Ma perché non me l'hai detto? Anche il mio compagno non ho detto. Ma perché non me l'hai detto? Perché devo scopo lavoro, perché lutto come si deve girare. Tu perché non me l'hai detto? Ma non è stato fatto per il lavoro che hai fatto una cosa... Ma perché tuo marito non ti avrebbe detto? Me l'ha detto, me l'ha detto. Quando? Me l'ha detto, me l'ha detto. Oh, sbagliato. E' stato un negocio che ci ho chiesto di due scuose, tu mi hai detto questa non si fa n'era, non si fa n'è, non si fa n'è, non si fa n'è, non si fa n'è. E' stato un negocio che ci ho fatto per il lavoro, ok? Ma perchè tuo marito non ti aveva detto? Me l'ha detto mia valente! Quando? Me l'ha detto! Me l'ha detto! Me l'ha detto! Ho sbagliato! Io l'ho detto! Ho sbagliato! Perchè non me l'ha detto? Perchè tu non mi chiedi? Io ho chiesto scusa! E basta! Ma te l'ha chiesto lui! I capelli e facevi finta che... Ma mio marito non ha... Ma che cosa ha fatto dopo? Che dopo ha fatto? Dopo ha fatto qualche altra cosa? Non dopo? Io voglio... Io penso che ti avessi contato lui! Tu l'ha sbagliato! Ma cosa ha fatto? Che ciò che ti chiedi dietro? No, tu mi hai spinto... Tu mi hai spinto verso camera da letto Qualcosa mi hai fatto? Ma che stava andando? Mi hai spinto verso il muro e portavi di infilarsi i mani sotto per prendermi... Perchè non? Non è così? Io ho sull'emmettine! Cosa? Cosa? Non ho spinto l'emmettine! Cosa? Il muro e portavi di infilarsi i mani sotto per prendermi... Perchè non? Cosa? 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 Non ho il pote... Cosa? Non ho il tipo a yanlış... Non ho stato messo... .. individ�ina! Non hai produzioni... .. essere un statutico... RECHAuto qualcuno... Non ho mamma non ha il premio... ... sonogrundai... Non ha il prove che l'uomo è tutta... Noi sono due! Mitки! Noi sono due! Tipo... ... essere un namัlderare... Regla! E' come questa roba a bevare? E' come questa roba a bevare? E' come questa roba a bevare? Ma allora scusa ce lo devo dire ma scusate io ho perso un anello di 450 euro. Dove? Dove? E' che sto dicendo quando sei stata lì? Da quando sei stata tu? Ma la prova? Aspetta aspetta ma sono un patacratto come avevi detto? Io ero in casa al lavoro con tutti i pochi. Bene, è un po' E' come? E' come? E' come questa roba a bevare? E' come questa roba a bevare? Io percino metto l'anello Ci penseranno? Io ho detto che è una commandiera Ho detto l'anello degli orecchini Gli orecchini li ho trovati Gli orecchini li ho trovati E' quello che ho trovato nell'anello no Ah aspetta 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 Mi ricordo altre cose siccome io sonoiosa E' semplice perchè non sei chiesto Mi ha detto Manca metto Non c'è me ma ci sono i plan Lo so Non so però giulare quando dici la bugia Se non ti ricordi Ricordati bene Riflettiti bene che cosa mi hai detto Tu mi hai detto zani Non ti preoccupare Non ti vieni il testo Scusa, ma che ti dovevo dire che sei stata tu? Non potevo dire che sei stata tu, ma perché sei stata tu? E' stata 10 anni a casa mia con una imbrogliona. Ecco, questo è il risultato. Non può essere che sei tu imbrogliona, ma scusate, perché tu mi devi dire imbrogliona? Ma io non lo posso dire che sei stata tu. Ecco perché sono venuta perché ho detto spettinorami neanche come il suo marito imbroglione. E' stata 10 anni a casa mia con una imbrogliona. Ecco, questo è il risultato. Non può essere che sei tu imbrogliona, ma scusate, perché tu mi devi dire imbrogliona a me e io non posso dire imbrogliona a te. Ma tu sai? Ma tu, la testa tua lo sa che tu... Ammessa mi dite bugia, la testa so, ma tu che l'hai la coscienza. Ma tu, ma tu guarda... Mi ha più amato come parema... Ammessa mi dite bugia, la testa so, ma tu che l'hai la coscienza. Ammessa mi dite bugia, la testa so, ma tu che l'hai la coscienza. Ma tu a me risiste bugia, la testa so, ma tu ce l'hai la coscienza? A me risiste bugia, la testa so, ma tu ce l'hai la coscienza? Spito perchè non ti ho detto tuo marito come è stato un porco con me, hai capito? La posso servere? Forza non è niente, a lei è capitato il figlio, all'arberto mi pare così! Per non rovinare l'armonia in vostra famiglia, parenti e loro, Gli amano ancora, mi dispiace quando date uscire io, sai perchè non ti ho detto? Per non rovinare l'armonia in vostra famiglia, per l'amore per te, per Dalia, per Dora, per tutti, hai capito? Perchè non ti ho detto tuo marito come è stato un porco con me, hai capito? La posso servere? Forza non è niente, a lei è capitato il figlio, all'arberto mi pare così! Che la cavano... Che la cavano... ...istrignano... Moltoiset pregno! Perchè non ti ho detto tuo marito come è stato un porco con me, hai capito? La posso servere? Forza non è niente, a lei è capitato il figlio, all'arberto mi pare così! Alloraate ti ho detto il figlio, all'arberto mi pare così! Che la cavano... Moltoissimi... Moltoiset pregno! Completa un po' clever! Come è stato un porco con me, hai capito? La posso servere? Forza non è niente, a lei è capitato il figlio, all'arberto mi pare così! Tu hai un marito come il dito perché non ti ho detto Tu hai un marito come il stato porco come il dito perché non ti ho detto Tu hai un marito Allora, vado a capire il tuo figlio Che avevo un discorso Che avevo un discorso Vedi che mi pare come figlio Perché il libro è un istrambale Hai capito? Tu hai un istrambale Hai capito? Tu hai fatto un sinistro che in casa È un istrambale Hai capito? Per non rovinare l'armonia in vostra famiglia Per amore per te Per dare e perdere Per tutti Hai capito? Perché non ti ho detto Tu hai un marito come è stato porco con me Hai capito? La posso sapere? Cosa? Non è niente Lei non è capitato Ho capito perché non ti ho detto Tu hai un marito come è stato porco con me Hai capito? Allora, vado a capire il tuo figlio Che avevo un discorso Che avevo un discorso Vedi che mi pare come figlio Perché il libro è un istrambale Io non tenevo questo per sempre Ma non posso fermare Ma perché? Vediamo le bugie Lasciamo bello tutte cose Allora, vado a capire il mio caso A poco I miei casi sono tutti Mi pare che se non è uscito con me E' un'altra persona Ho detto Amore mi pare come è lei Con la tua mamma ci scherziamo Perché lei Siccome lei Si imprometteva sul mio lavoro Quando io lavoravo Ma tu hai un marito? Che avevo un discorso? Che zambi volevo fare Sono Ho detto Amore mi pare come è lei Con la tua mamma ci scherziamo Che faccio Che ho morito Altro giorni Mi esco stretto Mi dire Che zambi Che zambi Amore mi pare come è lei Che zambi Così Su che sto prendendo Una stalla E vedo la cassa Adame Mi guarda Mi guarda A mia vita? No Le tue scerze Ma io Ho la mia vita Ho la mia vita Ma le mani Ho la mia vita Ho le mani Ho le pezzoni Fai chiedere contro le cose E tu sta zitta Mio marito Mi ha detto Mi ha detto Niente le mani Niente Mi ha detto Niente C'è normale C'è normale Le tue cose Mi dovevi considerare Ma è vero Ma cosa è successo Perché sono così bravi Le persone E com'è cui dice Che la cassa mia Buttava Che gli sogni Ma le tue Che fa c'è Bina E io vi ho portato In bulgaria foto E ho fatto vedere Le mie scelte E noi andiamo Buona E noi andiamo Così 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 bravi Le persone Ero fiere di voi Anche noi Ero la mucchiera di te Che? Così bravi Le persone Ero fiere di voi Anche noi Ero la mucchiera di te Così bravi Le persone Ero fiere di voi E io vi ho portato In bulgaria foto Ho fatto vedere E com'è cui dice Che la cassa mia Buttava Che che gli sogni Ma le tue Tre 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 Sono stato solo fuori Tu lo sai bene Che ti Tu lo sai Tu lo sai bene Che io mi sono avvelenata Con fodotti Per pulirti la cassa Ti ho fatto pagare Sopero Quando io prendo Il tuo euro Tutti i qualsiasi Ma i miei fanno Che da tutto questo Ma i miei fatti Mi dovrebbero essere Aumentare il stipendio Quindi i fatti Mi dovrebbero essere Aumentare il stipendio Dopo dei sani Non avuto Ma i miei fatti Ma i miei fatti Ma i miei fatti Mi dovrebbero essere Aumentare il stipendio Quindi i fatti Mi dovrebbero essere Aumentare il stipendio Dopo dei sani Non avuto Ma i miei fatti Ma i miei fatti Ma i miei fatti Mi dovrebbero essere Aumentare il stipendio Quindi i fatti Mi dovrebbero essere Aumentare il stipendio Dopo dei sani Non avuto Passiamo la mia fatti e sono un mandato ma se tu sei che cosa mi hai detto tu mi hai detto che questo non è vero non è vero tu mi hai detto non mi devi chiedere più soldi io? si? oh no sii non mi devi chiedere più soldi tu sei proprio per te mi dispiace per te no non mi dispiace per te cioè mi dispiace per te anche per me oh scusi penso ci vengono anche tu sei che no no io non mi dispiace per te no 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 penso ci vengono anche tu sei che no no io non mi dispiace per te no 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 io sono persona educata dolce gentile amorosa ci dà amore il cuore tutto ci dà il lavoro mio e due tratti sono tutte pulite problema teatro tuo sai quale perchè voi la tenete a te la vivete tanto non la pulite aspettate tutto a me e cazzo non si può tutte cose non si può fare come pensi tu chiedere le persone da me l'amore chiedere le carte miele io qua io ho andato ho fatto di tutto e di più e voi non lo avevate perchè io non ho attenzione di andare nelle vicine allora allora ti faccio male ti faccio male scusala tu non interessa questa cosa ma io mi raccontavo andrea minacciata l'amore Faik dinhew .. Nooo, non tento di minacciare! Ma perciò sbagliato, ma io la vi ho racconto. Ma io non ti ho minacciato! Perché io bello grazie di andare male! Eh, anver거든 di minacciato! Andrea lo minacciato! Lui mi ha parlato se è una cosa tua che ti ha un monico e ti si è perso. Ma l'ha minacciato? Lui mi ha parlato se è una cosa tua che ti ha un monico e ti si è perso. Ma l'ha minacciato? L'ha minacciato. Ma non perci. Non vuoi essere? Ma io non perci. Ma io no. Ah io no. Perché ha sbagliato. Ah io non l'ho raccontata. Ma io non ti ho minacciato. Perché mi ho regato se lo stavo male. Ma io se non ti ho minacciato, Andrea l'ha minacciato Enrico. Grazie. 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 Grazie.